e forse qui vedremo un volo di Mirko allora da questa inquadratura credo che comunque la veda giusta giusta però c'è quel pallino che può andare a destra e a destra come sappiamo io penso che qui tirerà un volo se ti ricordi io ho cercato di fare i voli a fondo campo due settimane fa le bocce sono ancora lì si la tira di volo tira di volo, chissà se avremo un nuovo materiale per video di youtube intanto 5 a 0 per la coppia numero 1 solita concentrazione di Mirko eccolo qui, stile sui tre passi, perfetto grande prosciata di Mirko addirittura butta fuori la boccia dell'avversario tutti quanti che vi fanno i complimenti e sentite l'applauso grazie a tutti grazie a tutti